ragazzi buongiorno benvenuti a questa nuova video lezione che riguarda la disciplina italiano andremo oggi ad analizzare alcuni caratteri del neorealismo italiano ma anche dando uno sguardo a quello che era il suo corrispondente europeo vediamo che la corrente del neorealismo che poi si aggancia a quella del realismo continuerà più o meno nell'arco di un ventennio 25 anni dal 1930 fino a tutto il 1950 di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una corrente che ha all'interno delle caratteristiche particolari sarebbe a dire il racconto della realtà appunto come faceva il realismo ma anche la denuncia sociale il racconto dei temi di guerra e anche di quelle problematiche che si instaurarono in italia e nello scenario internazionale dopo la prima guerra mondiale in questo quadro senza dubbio ha un posto importantissimo un autore americano che è Ernest Hemingway Ernest Hemingway che è nato nel 1899 e morto nel 1961 ed è stato insignito con il premio Nobel per la letteratura perché è importante Hemingway? Hemingway è il rappresentante di un neorealismo particolare che ha in sé molti elementi se vogliamo romantici perché le sue opere sono pervasi non soltanto da una descrizione molto bella e molto lucida della realtà ma anche da un trasporto sentimentale che non è comune in quel periodo storico abbiamo detto Hemingway è un americano ma è stato molto molto vicino all'Europa in quanto ci viaggiò tantissimo partì nella prima guerra mondiale come medico del come scusate come personale di supporto nella croce rossa ma fu anche inviato durante gli anni della guerra civile spagnola quindi al periodo in cui le truppe repubblicane quelle di franzisco franco si combattevano e in quel contesto lui scrisse tantissimo partecipò ripeto alla prima guerra mondiale in Italia lui nella storia di questa di questa di questa guerra scrisse un romanzo molto molto fortunato e anche molto bello addio alle armi che non è altro che la cronaca di un amore tragico che avvenne appunto in Italia con l'innamoramento di questi due personaggi principali e da sfondo alla loro vicenda amorosa che poi purtroppo non si tradurrà nel migliore dei modi abbiamo proprio il disastro della prima guerra mondiale in particolare la vicenda di Caporetto che segnò poco la nostra storia e fu il punto più basso della partecipazione italiana alla prima guerra mondiale invece per chi suona la campana è un'opera ambientata durante il periodo della guerra della guerra franchi del regime franchista e racconta questa guerra civile spagnola è proprio la brutalità delle truppe di franzisco franco che non si facevano scopoli a massacrare le truppe repubblicane nel silenzio purtroppo dell'opinione pubblica internazionale i 49 racconti invece sono una serie di piccole opere che narrano la realtà di quel periodo storico dando anche delle pennellate di crudo racconto di guerra come accade appunto sempre nel periodo della guerra franchista via uno sguardo per così dire di onestà da parte di Ernest Hemingway lui non cerca di infiocchettare la realtà per dare insegnamenti scusate didascalici la sua descrizione della realtà è particolarmente onesta aderente a quelli che erano i fatti tuttavia ci sono alcuni elementi molto belli che arricchiscono la narrazione non aveva uno sguardo tanto per intenderci verista in cui l'autore deve stare sempre fuori o comunque fotografare semplicemente la realtà senza esprimere giudizi morali no in questo caso i protagonisti dell'opera ci fanno emergere tutta la tragicità di quel momento storico e ci portano come lettori a parteggiare per l'uno per l'altro comunque a maturare una sorta di empatia per questi personaggi il vecchio e il mare è il capolavoro probabilmente di Hemingway quello che il romanzo che gli valse il premio Nobel ed è una storia una storia anche di un'amicizia intergenerazionale ma anche una storia di filosofia di vita in cui emerge poi questa grande competizione tra l'uomo e l'animale il pescatore il pesce spada ed è un racconto sì realistico ma anche molto 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 metaforico quindi uscendo fuori dalla parabola di Ernest Hemingway dobbiamo riaffermare quindi che il neorealismo produsse anche in Italia tutta una serie di opere il primo autore che vogliamo presentare è Elio Vittorini Elio Vittorini che era un siracusano nato nel 1908 e morto nel 1966 anche egli era come tantissimi intellettuali del suo periodo storico era un antifascista molto legato anche alla tradizione della poetica e della letteratura nordamericana lo era lui lo fu Calvino lo fu anche Pavese proprio perché c'era questo concetto di appartenenza unica degli autori a questa corrente del neorealismo che era particolarmente forte come come tutti i siciliani anche Elio Vittorini non era immune dall'amore viscerale nei confronti della sua terra terra che dovette abbandonare per alcuni periodi chiaramente sapete che essere antifascista non era semplice in quel contesto storico si veniva esposti alla possibilità di essere arrestati di essere mandati in confino di subire la censura di essere comunque perseguitati le sue opere principali sono Il Garofano Rosso che un'opera possiamo definire tranquillamente un romanzo di formazione narra la vicenda dell'educazione sentimentale anche erotica di un ragazzo che a un certo punto della sua maturazione dovete anche scegliere tra un amore per così dire platonico come quello di Dante è un amore del tutto carnale e all'interno di questa storia d'amore poi si innesca la crescita del personaggio Conversazione in Sicilia invece è un altro romanzo che permetterà a Vittorini di fare tutta una serie di valutazioni sul sistema sociale e anche sulle descrizioni storico e paesaggistiche dei luoghi che lui ha visitato è una narrazione di un lunghissimo viaggio in cui il protagonista conoscerà persone, racconterà paesaggi, racconterà la sua terra ed è il tema fondamentalmente della varietà dell'umanità e del rientro, del ritorno a casa fino anche al racconto delle atrocità della guerra. Infine altro romanzo che vale la pena ricordare di Elio Vittorini è Uomini e no Uomini e no è un romanzo molto agile, molto ben scritto e particolarmente accattivante ambientato nel periodo della Resistenza che narra proprio le storie di questi partigiani che si scontravano con le truppe nazifasciste e in un periodo di grandissima tensione, di grandissima guerriglia in quelle che erano le zone in cui la Resistenza sopravviveva. Qui c'è anche una forma sottile di valutazione sull'umanità stessa e il titolo che ce la suggerisce perché Uomini e no non è altro che è la divisione netta tra coloro che erano uomini e coloro che non lo erano, la divisione tra chi era antifascista legato al concetto di libertà e democrazia e chi invece non lo era. Andiamo a chiudere questa prima panoramica con un autore estremamente importante che è Cesare Pavese. Cesare Pavese che nacque nelle Langhe Cunesi nel 1908 e morì suicida nel 1950. Si può dire tranquillamente che quello di Cesare Pavese è stato un grandissimo spreco di talento a posto fine alla sua vita in un momento in cui avrebbe potuto dare tantissimo ancora alla letteratura italiana ed europea in quanto era una penna raffinatissima, scrisse poesie, scrisse prosa e saggistica. Sapeva tradurre bene che egli era legato alla tradizione nordamericana della letteratura e aveva anche una forte impronta filosofica che ricorda in alcuni aspetti Leopardi ma anche e soprattutto Montale. bisogna dire che la scrittura come invece avvenne per Italo Svevo non riuscì in Cesare Pavese ad attenuare il suo disagio esistenziale. La sua comunque inquietudine lo accompagnò per tutto il resto della sua vita mescolandosi ad una forma depressiva che lui ebbe sempre e anche ad un insieme di vicissitudini che gli capitarono come per esempio alcune delusioni amorose che ebbero l'effetto di detonatore quindi di fargli perdere comunque molte certezze e portarlo a quello che fu l'estremo gesto del suicidio. Una delle sue opere saggistiche più importanti è Il mestiere di vivere. Il mestiere di vivere è una sorta di zibaldone nel quale lui scrive la sua concezione della vita. Vedete già la stessa vita vissuta come un mestiere indica una fatica una fatica che possiamo tranquillamente ricollegare a quello che era il male di vivere di Eugenio Montale. Quindi una concezione della vita sofferta che vediamo anche nei romanzi ad esempio come Il compagno e la casa in collina in cui vi è forte il tema della resistenza e della violenza temi che fanno parte del suo essere anche perché Pavese si sentì inadeguato per quel periodo storico perché anche se fortemente antifascista, comunista militante egli non fu particolarmente attivo nella lotta partigiana e questo gli provocò quasi una sorta di forte senso di colpa perché si sentì in colpa nel non aver propugnato quella che era la lotta contro il regime liberticista nazifascista e questo lo ritroveremo anche nei suoi romanzi. Negli altri due romanzi come Paesi tuoi e la luna e i falò invece entra a pieno titolo la questione del legame alla sua terra il legame alla sua terra è anche del ritorno a casa cioè il ritrovare quei paesi che tu avevi lasciato i luoghi del cuore ormai completamente diversi da come tu li avevi lasciati perché comunque la vita è in evoluzione sebbene molti luoghi non cambino totalmente perché comunque sono luoghi chiusi tu quando ci ritorni ti senti comunque strano e questa è la tematica di fondo di Paesi tuoi e la luna e i falò e quest'ultimo ha anche una cornice importante della resistenza e delle violenze avvenute in quel paese durante il periodo appunto di contrapposizione tra i partigiani e le truppe nazifasciste la poesia di Paesi è incentrata come avevo detto prima su questa grande difficoltà di vivere di sopravvivere e c'è tutto dentro una grande raccolta che era Verrà alla morte avrai i tuoi occhi in cui si affronta anche la tematica amorosa c'è proprio una poesia che dà titolo all'opera Verrà alla morte avrai i tuoi occhi è una poesia bellissima molto struggente e potente nella sua descrizione soprattutto nel verso finale quando Paesi dice quando Paesi parla proprio della fine della vita quasi come lo scendere in un gorgo muti che cosa vuol dire questo? è la fine di una relazione amorosa è la fine di una relazione violenta perché la fine di una relazione per lui è stata una cesura, un momento di traumatica e se vogliamo è stata una raccolta anticipatoria di quello che sarebbe successo dopo quindi del suo suicidio molto importante è stato anche il momento in cui lui ha maturato questa decisione prima del suicidio ha lasciato un biglietto un biglietto ironico e allo stesso tempo consapevole lui ha scritto perdono tutti e a tutti chiedo perdono va bene non fate troppi pettegolezzi quindi c'era una grande lucidità nel suo percorso di fine vita una grande lucidità che se vogliamo la ritroviamo dentro la sua ultima raccolta poetica ripeto Pavese molto molto negativo nel suo approccio alla vita quindi ricorda Montano nel male di vivere Leopardi nella sofferenza nel pessimismo cosmico purtroppo pone fine alla sua vita in un momento in cui ripeto avrebbe potuto dare tantissimo alla storia della letteratura italiana ed europea grazie a tutti